Per l'Italia il mare è un elemento chiave, essenziale per il nostro territorio, la nostra cultura, la nostra economia, da sempre. Noi siamo nati sul mare. Il settore marittimo contribuisce oggi con 65 miliardi di euro al prodotto interno lordo e sta recuperando il trend di crescita osservato prima della pandemia. Siamo al terzo posto in Europa per valore aggiunto nel settore dei trasporti marittimi, nella cantieristica navale, nel turismo costiero e nelle risorse marine non biologiche. Occupiamo il quarto posto per le risorse biologiche marine e il quinto nelle attività portuali. Le imprese attive nella blu economy sono circa 230 mila, generano un fatturato di oltre 137 miliardi e offrono lavoro a circa 900 mila persone. Un grande universo.